Sì, è una monomarca oh se è per i grandi è per i grandi eh oh se è per i grandi è per i grandi eh per forza voi non ascoltate queste cose cosa ascolti andiamo a fare la zona non dovete ascoltare lui non le fate più se ascolti il chico siete rovinati se devi farlo a quel punto lì parti già da qua tocca al davanti e buttala su piuttosto ti fermi su bravo no 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 va bene scolta bravo bravo c'è un gran bel mono eh no no ma porto perché è nuovo non dovrebbe neanche lavorare così bene figaro bravo ascolta lui quando io andavo a prenderlo ero su in cima con la roba lì eh quando andavo a prenderlo nelle gare ero sempre su alto due o tre mesi eh eh scopri con quella roba qua non te la caga neanche il peso calcola che c'è il buco su uno sull'altro se no ti fermi così deve arrivare così così quando sei su ma non esagerare fai come per appoggiarti giù col davanti eh non esagerare a gasare tanto non puoi cioè ma che vada vai giù appoggia giù davanti qua che il dietro te lo ritrovi giù in automatico appoggialo lì avanti qua qua deve arrivare non esagerare no tu non devi fare quello tu devi passare a fianco che che vai a fare tu devi fare quello allargati ciao Fabione ciao bravo peso peso hai aperto e sei in mezzo gira dietro il sasso sbagliato dovevi girare largo vicino al nocciolo al nocciolo quello che è esci da scoso però dove nocciolo salire e uscire il peso dovete fare l'ostacolo e la salitina giù fino a peso qua non è usato se salite c'è la salita ti fermi giù fino alla pianta bravo allargati il più possibile vai vieni sul sasso così peso vedi che ti ha portato dentro va bene fa niente esci dai sassi largati ancora ma devi arrivare alla pianta non ce la fai più salire da qua dopo pianta fino a loro fanno stretto tu fai fino alla pianta viene a fare questo e esci dai sassi così c'è dentro ancora due contropendenti seconda eh si tutte si si non serve bravo bravo allargati ti devi allargare di più là eh perché se dopo resti tanto stretto qua perché questa è una contropendenza mica poi così facile eh guarda il chicco come no è che lui gira di là allargati allargati giù giù oh ruba tutto qua fino a qua puoi arrivare fino a qua saldi eh ma è il peso eh è il peso che come ti muovi la moto va per i cazzi suoi poi eh dopo due mesi che non ci metto mai allanno tema sogoni quattro